Farò da fare un regalo a tutti i giocatori Se anche tu vuoi ricevere ho 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like In questo momento se vuoi ricevere anche tu ora una skin gratuita Sarà molto facile di andare nel negozio oggetti di Fortnite Lascia un commento qui sotto nei commenti Voi tali saprò a chi andare a fare questo regalo Quindi ti vado a regalare per esempio questo qua Andiamo a regalare il regalo per gli amici Ok quindi se anche tu vuoi questo regalo inserisci il codice codinggamer502 Lascia un commento qui sotto nei commenti A breve lascerò un codice skin qui sotto Che voi potete andare a riscattare per ricevere subito una skin gratis Appena arriviamo a 50 like Mi ti lascio un bellissimo like ora Mi raccomando codice codinggamer502 Ciao ragazzi bye